Arta è una nuova piattaforma social interamente dedicata al talento, agli artisti e agli amanti di arte e spettacolo. Il progetto ha l'ambizione di raccogliere in una community le diverse espressioni del talento, offrendo loro una vetrina digitale con due principali obiettivi. Il primo, quello di rappresentare un nuovo efficace strumento per la ricerca di nuove opportunità professionali per artisti di ogni disciplina. Il secondo, quello di offrire un intrattenimento social di qualità. Il progetto intende realizzare un luogo virtuale protetto all'interno del quale ciascuno possa esprimere attraverso il clip e attraverso le immagini se stesso il proprio talento senza la paura di essere giudicato. Infatti, Arta presuppone l'espressione di un gradimento rispetto ai contenuti condivisi, ma non poste e commenti pubblici a questi contenuti. Quindi preservando in qualche modo la performance e la forma d'arte condivisa con l'amore.